Che cacca ci fai tu qua? Oh mio Dio, ma tu non te ne eri andata in casa tua? Stormo, vi ricordo che in preordine in questo momento su Amazon il mio fumetto, la scomparsa di dolcetta, la Stormo Aventura, mi raccomando, perché il 14 luglio sarà libero in tutte le librerie d'Italia. Mi raccomando, andatelo a fare in preordine, link in descrizione. Ecco che arriva, Grucco, ecco che arriva! No, scordi, fermati! No, cacchio! Eh, ma c'è il muretto lì sopra, non può andar bene, cioè devi infilarlo in mezzo. Eh, ci provo io. Ah, è mia, è mia! Dammela, dammela, non puoi devi balleggiare! Ragazzi, 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 che c'è? Guardate cosa ho comprato, guardate cosa ho comprato! Cos'hai comprato? Cos'hai acqua? Acqua hai comprato acqua? Sì, sì, però è acqua non bagnata. Che significa acqua non bagnata? Ma stai male? Aspetta che cosa? Ma mi sono bagnato, mio Dio! No, come che pare? Guardalo! Che figata! Assurdo, eh, assurdo! Vichissimo! Magica questa cosa, dov'è? È fighissimo! Su Amazon! Davvero! Sì! E compro cinque di questa adesso! Ma veramente, oh! Oh, ascoltate, facciamo uno scherzo con questo! Esatto, voglio fare uno scherzo! Eh, tipo a chi, a chi, a chi, a chi non lo so! Non lo so, dite qualcuno di voi il nome, non lo so! Non ho più paliera idea! Dai, dai, sparate, sparate! No, so che ci sta qui! Ci sta solo Violet! Allora, Violet! Dai, dai, andiamo da Violet! Appunto, Violet! Sì, sì, sì! Allora, mi raccomando, però dove dobbiamo andarci? Solitamente, tipo... Aspetta, prima spieghiamola dalla finestra, vediamo se è stacco da qualche parte! Aspetta, ok! Ah, vedi il nome! Sta fuori, sta fuori, sta dall'altra parte della casa! Ok, ok! Magari c'è un modo per salirci! Da qua, da qua, da qua! Venite, venite! Sì, esatto! Saliamo dall'albero, l'albero! Aspettate! Ci siete tutti? Oh! Calmi, ok! Dovete stare tutti, tutti zitti, ok! Ah, e mi raccomando! Dovete lasciare in questo momento un sacco di like! Proprio 15.000 like per questo video! Perché stiamo per fare uno scherzo incredibile a Violet! Quindi tutti quanti mettete cellulare in maniera verticale e mettete like! Ok, ci siete? Ottimo! Ottimo! Ottimo, perfetto! Mamma mia, mamma mia! Eccolo, eccolo, eccolo! Guarda piano! Sì, sì, sì! Sta qui sotto! È pronto! Ferma, lì, vai, Violetta! Piancina! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Ma che cavolo! Oh, mio Dio! Ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Cosa abbiamo fatto? Stiamo scherzando? Vai! Le mie piantine! Le mie piantine! Adesso come faccio? Me ne avete rotte tutte! Eh? Ma che cosa si dice? Aspetta, fammi vedere! Oh, porche miseria! Me ne avete rotte tutte le piantine! Oh, cavolo! Oh, non ero bagnata! Mi hanno sentito il mio amore per farle crescere! Oh, non ero bagnata! Me l'aspettavo da te, crucco! Ma non ho smetto niente io! Eri, allora potevi fermarli! Sei un mio caro amico, invece non hai fatto nulla! Eh, un caro amico! Wow, io ci tenevo! E invece no, ti sei comportato come loro! Fate davvero schifo! Ma aveva detto, ma era un acqua che praticamente non bagnava, ti giuro! Perché ti è bagnato tutto! Scusa, ci vai! Scusa, ci sciamolezza! No, scusa il cavolo! Mi vendicherò per questa cosa! Mi vendicherò tanto per questa cosa! Cosa? Come vendicherò? Oddio, in che senso? No, tu vattene! Non ti voglio più vedere! Ma? E andate fuori da casa mia! Su, fuori! Non me le ho gambe! Eh, scappa tutto! Fuori! Aspetta, vai! Ma magari possiamo sistemare le piantine! Non credi? Magari c'è un modo! No, non le possiamo sistemare! Non ci sarò più! Cosa? Ma il ordinatore lo dici fuori! Te le ripianto! Ah, non è quello un problema! Te le posso ripiantare le piantine! Il problema è che non ci sarò più loro! Mi comprerai sempre nuove piantine che non saranno mai quelle! Uffa, ok! Io me non sto bene! Va bene! Eh, avevano anche loro dei nomi, le piantine! Tutto in casa mia ha un nome! Oh, sciaboletta! Anche la porta! Oh mio Dio! Sciaboletta! Mi dispiace! Ha detto che si voleva rivendicare! Speriamo che non lo faranno nemmai, porca miseria! Mi dispiace un sacco per quello che è successo! Non l'avrei mai fatto, porca miseria! Vabbè! Porca miseria! Questo è per sentire sempre quello che dice Zio Grucco! No, 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 Zio Grucco! Eh, Lux! E guardate ragazzi, ho trovato l'acqua imbagnabile! Ma porca miseria! Ma com'è possibile che pensa solamente a minimamente una cosa del genere? Eppure stavo giocando con Zio Grucco! Ma cacchio è finito quel tizio? Poteva ritornarsene a casa mia! Vabbè, come l'hon detto! Sciabolette, ho sbagliato tutto della mia vita! Ecco, rimettiamo la parla a posto perché tanto non posso giocare! Mannaggia lui! E niente! Sciabolette! Ragazzi, seguitemi su Instagram, su Twitch e su TikTok! Mi raccomando, perché appunto io pubblico un sacco di post e storie! E specialmente storie pubblico davvero quello che faccio durante le mie giornate! Quindi cliccate! Segui! Ok, va bene! Allora, e niente! Al resto cosa posso fare? Mi seguo un po'! Chiudo la finestra! Mi seguo un po'! E mi guardo un po' di televisione! Credo che me ne sia guardato abbastanza! Me ne vado un po' a nanna che ho un po' di sonnetto! Proprio che sto giusto qua! Che cacchio è stato? C'è nessuno? Ehi là! Mi è sembrato di sentire qualcuno! Chi cacchio era? C'è qualcuno? Vedete che c'è una chiave! È una... Non è inglesa! È una chiave di casa! Fa ancora più male! Perché c'è tutta... Tutta... Tutto l'arredamento con tutte le fondamenta, eh! Quindi fa male la chiave di casa, eh! C'è qualcuno che vuole prendere una chiave di casa in testa! Pure mi è sembrato di chiuderla dalla porta! Magari la chiudo a chiave questa volta, così almeno non passa neanche con il vento! Ecco, perfetto! Andiamo da questa parte, porca miseria! Io questa finestra mi pare di averla chiusa! Ragazzi, vi ricordate quando l'ho chiusa questa finestra? Scrivetevi un notaggio esatto nei commenti! Perché credo di averla già chiusa questa finestra! Credo proprio di sì! Mi sa proprio che l'avevo chiusa! Vabbè, in ogni caso la richiudiamo! Ok, va bene! Probabilmente... Non lo so, mi sto segnando le cose, sciolette! Da quando mi sono lasciato con dolce testo vivo da solo! Mi sento un po' osservato! Perché non mi osserva più nessuno! Vabbè, ritorniamoci a una casa! Porca miseria! Ok, allora... Buonanotte a me! Che cacca ci fai tu qua? Oh mio Dio, ma tu non te ne eri andata in casa tua? Assolutamente no! Pensavi di liberarti di me? Sì, staccati di dosso! Staccati di dosso! No che non mi stacco! Tanto sei singolo adesso, no? E beh, che cosa significa? Non mi... Non voglio... Non mi piaci tu! Non voglio avere una relazione! Non sono pronto adesso, hai capito? Voglio semplicemente starmene da solo! Battere via di dosso sciaboletta, Ivi! No, anche... Adesso che sei da solo... Posso averti tutto per me anche se non vuoi una relazione? Cosa? No, 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 staccati! No, staccati! Non voglio che mi tocchi! No! E invece sì, dammi un bacino! Dammelo! Presto! Oh, ma che cavolo! Io volevo farti uno scherzo Che cosa È arrivata prima di me No, 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 aspetta Non è come penso, ok Ti stacchi, Ivi Mannaggia a te Porche miseria, ascoltate Era proprio come pensavo invece No, 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 Ivi, Ivi Stavamo giocando al gioco Sì, esatto Cosa? No Senza il twist Era la versione hard Il del twist, capito? Hard nel senso difficile Del twist, capito? Vabbè, comunque Ok, comunque Sì, che cosa cacchio ci fate voi due in casa mia? Tu, ok, posso capirlo, ma lei Tu che ci fai qua? Tu sei benissimo che cosa ci faccio in casa tua Mi hai rovinato le piantine e volevo vendicarmi Sai che cosa ha fatto questo? Questo, quest'oggi È venuto a casa mia mentre stavo innaffiando le mie piante Ok, c'era Tina Tra le mie piante, ti rendi conto della ricordina Ecco E lui? Ha preso E mi ha buttato l'acqua addosso Adesso le mie piante Ha fatto morire Tina Che cattivello che sei sbrisa Dovevo proprio prunire, no? No, prunire non si dice neanche nel mio cavolo di italiano Quindi mandatene tutte Che significa? Che cacchio volete farmi? State meno lontane 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 Via Che la finestra non si apre, vero? Te mannaggia poi Mi prego, lasciatemi stare Via Non bagnarmi le coperte Vai Ti prego Non bagnarmele Non bagnarmele Non bagnarmele Per favore Non le coperte Non le coperte Tu No Ti prego no Poi tu dovrai tagliare i vestiti E lì se ne occuperà lei Immagino Ah no 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 Ah no Sciaboletti Ti prego no Avevo pulito da bocca a terra Il mio tappeto pure Ah Guarda che bel tappeto Tutto bagnato Ah ragazzi Vi prego Tattemi le cose Ti prego Tattemela Ah Prego Un pochino di più No Non si sa mai Spostatevi Spostatevi No Non ci spostiamo Sai che cosa Ecco ora Te lo lascio qua Oh mio dio Oh mio dio Oh no Sono tutto bagnato adesso Sciabolette Menomale che sono riuscito A cambiarmi subito Il pigiama Ascoltatevi Vi prego Datemene via Mi scongiuro